Ciao a tutti, come state? Spero molto molto bene. Oggi qui c'è un sole bellissimo e si sta bene perché è fresco, sono 19 gradi e a me piace tanto il fresco. Allora, oggi sono qui per farvi vedere alcuni altri acquisti che ho fatto. In questo caso parliamo di profumi. Allora, come vi dicevo, ho fatto diversi acquisti in questo periodo e li ho suddivisi un po' in categorie per farveli vedere. Ieri sera vi ho fatto vedere prodotti make-up e beauty. E adesso vi farò vedere dei bei profumini. Mi raccomando, tu intanto, rilassati. Ciao e goditi questo video. Mi raccomando, indossa gli auricolari. Straiati. Rilassati. E mi raccomando, metti mi piace al video. Grazie. Iniziamo. Allora, il primo profumino che però purtroppo mi sono dimenticata di tenere la scatola. Io mi sono scritta qui le note olfattive perché non me le ricordo tutte a memoria. Allora, quindi, iniziamo man mano che ho le scritte. Allora, iniziamo con il Barbary Weekend. Il Barbary Weekend. La boccetta si presenta così. Molto bella. Mi dispiace se senti i cagnolini abbaiare. Però purtroppo sono le 10 di mattina. E qualsiasi orario scelga c'è sempre qualcosa perché questa è una zona di campagna. Quindi non c'è mai silenzio silenzio se non la notte fonda. ma neanche perché ci sono i gufi. Questo profumo è fantastico. Allora, del Barbary Weekend. Le note di testa sono... Le note di testa sono... Reseda, mandarino, salvia. Le note di cuore, 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 cuore. Sono... Radice di violetta, iris, nettarina, fiore di pesco, rosa canina, ciclamino rosso. E poi c'è agendo blu. Le note di base sono... Sandal, muschio bianco, eccetera. E' un profumo fantastico. Io ho preso spunto dal video che ha presentato i profumi desi. E mi ha molto incuriosito e mi ha detto di provarlo perché è veramente, veramente buono. E aveva raggiù. Poi ho preso da Avon questo profumino. Capri. La scatolina è bella e ha rappresentato Capri. Capri nel senso... Non mi ricordo come si chiamano questi... Questi qui. Io adoro i profumi a prescindere, quindi... La marca è relativa. Di marca ne ho pochi. Però c'è un profumo che mi piace. Può costare anche 3 euro, che non importa. Infatti questo mi piaceva molto. Perché quando ti arriva l'ibretto a casa... E poi con il polso puoi sentire il profumo strofinando. Mi è subito piaciuto. E questo si presenta così. Ecco lo spruzzino, c'è anche lui. Mi dimentico sempre di disattivarlo. Questa è la boccetta che ho già usato. È molto buono. Corfo a parte. Che è appena passato il corpo. È freschissimo. Te lo faccio sentire anche a te. È molto fresco. E questo qua, apri. Allora abbiamo... Capri. Node di testa. Olio di limone. Node di cuore. Peonia bianca. Peonia bianca. Peonia bianca. Note di fondo. Muschio. Bene. Questo è l'incaprio. Poi... Giriamo pagina. E abbiamo un altro profumo avu. Alla violetta. Con tutte queste violette. A me piacciono tanto le confezioni. Però purtroppo dopo questo video dovrò accettarle. Adesso mi riempio la casa. E questa... Si presenta così. Qui c'è un adesivo viola. Vedete? Che è dalla parte di qua. Dell'interno dentro. Ci sono disegnate tutte delle violette. Anche questo è molto molto buono. A me piace molto l'aroma di violetta. Una volta prendiamo anche le caramelline. Ha il sapore di violetta. E questo profumino... Ha... Come note di testa... Troviamo... Percamotto. 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 Come note di cuore troviamo la violetta. E come note di base troviamo il bagiuli. Il bagiuli, il bagiuli, il bagiuli, il bagiuli. Spero che tu ti stia rilassando. Io sto facendo il possibile per rilassarti. Dimmi se vuoi qualcosa in particolare. E io ti accontento. Poi ho preso questo profumo. Che al momento ha un packaging bellissimo. Con questi tre disegni tipo trapuntati. E questo fiocchetto. Questo sempre suavo. E anche questo al momento mi è piaciuto subito. Il bag. Poi ho provato la fragranza che c'era nel libretto. E mi ha subito preso. Questo si può aprire sia così il tappino piccolino. Che il tappino grande. Scusate. Che è questo. E' molto molto buono. Qui troviamo. Su questo profumino. Vediamo se lo vedi meglio così. Sì. Su questo profumino troviamo. Le note di testa. Bergamotto. Pacche rosse. Mandarino. Cuore. Cereos. Naturno. Fiori bianchi. Base. Sandalo. 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 Guardate che carina. Molto carina. Quella bocetta da tenere sopra il banco. E poi come ultimo ha un nuovo acquisto. Anche qui non ho tenuto la scatola. Eeeh. Disegual. Fresh Bloom. E qui abbiamo note di testa, lampone e mangostano, note di cuore. C'è il suomino. Sandalos. E. Che non è sunbook. E' sandalos. E' rosa di maggio. E note di base. Abbiamo sandalo e cedro. Ecco amici. Questi sono i piccoli acquistini che ho fatto. Spero che vi stiate rilassando. io vi auguro un buon riposino. E ci sentiamo al prossimo video. mi raccomando. Se hai qualche richiesta volentieri te la realizza. ciao, 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 ciao.